abbiamo avuto un grande dirigente d'azienda in passato amato negli states e quasi odiato qui in italia ho letto recentemente una delle sue biografie che mi ha colpito e che mi ha spinto ad approfondirlo ad approfondire una persona di cui avevo molto da pensare ma solo per sentito dire dopo la biografia ho approfondito e seppur con tutti i difetti che lui stesso si riconosceva ho imparato moltissimo da questa lettura e da questo approfondimento e purtroppo su quanto i pionieri a volte siano molto bistrattati ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aef ed autore del libro da meno 35.000 a zero in 18 mesi libro del quale trovi link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove ti racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole come dicevo prima trovi link sia per quanto riguarda la versione cartacea che per quella kindle qui sotto nella descrizione del video parliamo di sergio marchionne un uomo d'affari un dirigente italo canadese soprattutto noto per i suoi ruoli di leadership in fca fca fiat chrysville automobiles e in precedenza fiat spa marchionne si è trasferito con la sua famiglia in canada quando aveva 13 anni ha conseguito una laurea in commercio presso l'università di toronto e poi anche una laurea in giurisprudenza presso la di osgood hollow school successivamente ha conseguito un mba un master of bachelor of arts presso l'università di winston i suoi genitori erano entrambi italiani suo padre concezio marchionne era un carabiniere un ufficiale di polizia militare che in seguito ha lavorato come burocrate nel sistema giudiziario italiano mentre la madre maria zuccon era una casalinga erano 8 chieti via trascorso come dicevo prima i suoi primi anni prima che brigasse a toronto in canada appunto come avevo detto all'inizio quando aveva 13 anni per cui per favore evitate di lasciare i soliti commenti di basso valore intellettuale sotto al video sul fatto che non avesse la residenza in italia che non pagasse le tasse in italia molto probabilmente in questo caso non siete mai stati all'estero a vivere non sapete cosa sia l'aere e per quale motivo esista come ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico lo ha fatto come specialista fiscale e successivamente è entrato a far parte del team dirigenziale dell'azienda di ricambi auto lawson mardon group entra nel consiglio dell'amministrazione di fiat spa nel 2003 e ne è diventato amministratore delegato nel 2004 nel 2009 poi ha lavorato e orchestrato la funzione fra fiat e chrysle creando la settima casa automobilistica più grande al mondo dell'epoca che era appunto fca una cosa che mi ha colpito parecchio tantissimo e quanto fosse noto per essere un manieco del lavoro workaholic come lo dicono in inglese lavorava per lunghissime ore ed era spesso descritto come instancabile nel perseguimento degli obiettivi aziendali era noto per mantenere un programma estenuante non solo per lui ma per la sua cerchia di dirigenti viaggiando spesso fra le varie operazioni globali di fca e partecipando a numerosi meeting ed eventi nelle interviste ha spesso parlato della sua etica del lavoro dell'importanza del duro lavoro per raggiungere il successo tuttavia vale la pena notare che mentre si dedicava al suo lavoro aveva anche una passione anzi più di una passione per la filosofia la storia la letteratura ed era noto per leggere molto tempo quando era appunto nel suo tempo libero io non so come facesse a trovare tutto questo tempo aveva la giornata di 48 ore sto cristiano era anche noto per il suo stile di leadership non proprio convenzionale e per avere ribaltato le aziende in difficoltà sotto la sua guida fca è tornata alla redditività e saldato il proprio debito è stato anche determinante nello sviluppo dei famosi marchi g per ram appunto quando questi erano diventati di fca è deceduto il 25 luglio del 2018 a seguito di una complicazione anzi di alcune complicazioni dovuto a un intervento chirurgico alla spalla anche se effettivamente per questione di privacy la famiglia non ha mai esattamente dichiarato di cosa fosse malato e per quale motivo effettivamente fosse passato a miglior vita era ampiamente considerato come uno dei dirigenti di maggiore successo e rispettati del settore automobilistico ricordo un suo intervento molto famoso che si trova anche su youtube in cui parlava di aver trovato la gente in ferie ad agosto in fiat mentre l'azienda aveva pochissimo lavoro e perdeva però 5 milioni di euro ogni giorno e lui diceva 5 milioni al giorno e la gente dove sono in ferie ma in ferie da cosa magari vi lascio il link di uno di questi video qua sotto nella descrizione attenzione non sono certo qui a santificarlo perché come ho detto anche lui diceva aveva moltissimi difetti che vedremo a breve ma ha raggiunto diversi traguardi significativi nel corso della sua carriera di imprenditore dirigente tra cui mi preve di menzionarne alcuni prima fra tutti il turnaround sia di fiat che di chrysler quando marchionne diventa amministratore delegato di fiat nel 2004 la società era in difficoltà finanziaria e perdeva come dicevo prima circa 5 milioni di euro ogni giorno ha trasformato con successo l'azienda ed è stato in grado di rifonderla con chrysler nel 2009 che aveva anch'essa enormi difficoltà finanziarie la fusione ha portato alla creazione di fca fca in inglese fiat chrysler automobiles che è diventata una delle più grandi case automobilistiche del mondo come dicevamo prima la settima all'epoca ha rilanciato poi di marchi storici americani come jeep e ram marchionne ha riconosciuto le potenzialità dei marchi jeep e ram che erano state largamente trascurate dal precedente management ha investito in questi marchi e ha supervisionato personalmente lo sviluppo di nuovi modelli che hanno portato un aumento delle vendite ma soprattutto a un aumento della redditività che era un crucio per quanto riguardava la gestione dell'azienda per marchionne e poi passato all'implementazione di un sistema di produzione snella marchionne era un forte sostenitore della produzione che fosse snella ed enfatizzava l'efficienza e la riduzione degli sprechi ha implementato questo sistema in fca ed è stato in grado di ridurre significativamente i costi e aumentare la produttività si parla molto della sua ammirazione per il sistema di produzione automobilistica giapponese parliamo di nuovo di debito e l'eliminazione del debito di fiat ed fca poi quando si sono unite poiché quando marchionne rilevò fca la società era fortemente indebitata fra fiat e chrysle ha implementato una serie di misure per ridurre dei costi e aumentare le entrate che hanno consentito a fca di estinguere il proprio debito industriale e diventare finanziariamente stabile ha avuto anche diversi riconoscimenti nel settore automobilistico marchionne è stato ampiamente riconosciuto come uno dei dirigenti di maggiore successo e rispettati nel settore automobilistico è stato nominato CEO dell'anno dall'automative news nel 2011 ed è stato inserito nella automotive hall of fame del 2019 ho detto che in italia fosse odiato ma non è esatto dire che sergio marchionne fosse odiato come lo si percepisce sebbene a volte possa essere stata una figura controversa era anche rispettato per il suo senso degli affari e per la sua capacità di leadership tuttavia ci sono stati alcuni casi in cui marchionne ha affrontato critiche molto pesanti da parte dei politici e dei sindicati italiani una delle principali fonti di tensione è stata la sua decisione di spostare la sede dell'azienda da torino in italia a londra nel regno unito nel 2014 questa mossa è stata vista come un affronto all'italia ha portato a preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro e il futuro della produzione italiana inoltre ci sono state anche alcune controversie sui rapporti di lavoro e sui salari negli stabilimenti italiani della fiat con i sindacati che accusano marchionne che lo accusavano di essere troppo duro nelle sue trattative e leggendo la biografia ve ne renderete conto non tracedeva mai nonostante queste tensioni è importante notare che marchionne è stato elogiato anche per i suoi sforzi per divitalizzare l'industria automobilistica italiana e creare posti di lavoro nel paese ha investito in impianti di produzione italiani e ha supervisionato personalmente lo sviluppo di nuovi modelli che sono stati prodotti in italia ha anche tentato il creare un pensiero comune fra i vari costruttori automobilistici europei per creare sinergie di beneficio a tutti ma purtroppo senza successo nel complesso realità di marchionne in italia è complessa riflette sia i suoi successi che le sue sfide per districarsi nel complesso panorama della politica italiana ed soprattutto nel complessissimo panorama dei rapporti di lavoro in italia a mio parere se ne fossero tantissimi altri come lui in italia con la volontà di innovare anche a costo di essere incompresi sicuramente come ho detto prima non era un santo ma sapeva bene il fatto suo e ha portato benefici nomi al mercato del lavoro italiano cambiando la fiat da azienda di produzione di massa all'azienda parte di un conglomerato più ampio oggi diventato stellantis anche grazie e soprattutto grazie alla sua reddita dirigenziale producendo solo vetture di un certo segmento molto più redditizio rispetto a quello di massa e soprattutto era conscio dei suoi difetti e ci conviveva bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video oggi come sempre ti chiedo la cortesia di farmi capire se questo contenuto è stato il tuo gradimento di farmelo capire con un semplice pollice in su per l'algoritmo di youtube e per la mia soddisfazione personale più cresco e più possibilità di creare contenuti nuovi di qualità che mi permettano comunque di portare avanti questa mia idea di auto imprenditorialità lasciami un commento qui sotto dammi le tue impressioni in merito e poi se sei nuovo sul canale ti prego per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché ogni nuovo contenuto pubblicato ti venga notificato bene anche per oggi è tutto non mi resta solo chiederti ciao arrivederci a un prossimo video a presto